Sono tante le manifestazioni che si tengono nella nostra regione a livello culturale. Uno spazio importante se lo ritaglia sicuramente la poesia e se lo ritaglierà a Macerata, lunedì 7 luglio nel Chiostro del Comune. Il personaggio che ho qui vicino è conosciuto ai nostri ascoltatori, Sergio Carlacchiani, poeta, il quale a Macerata ritorna per declamare poesie, niente po' di meno che di Montale, con musica, no Sergio? Sì, avrò con me un gruppo d'eccezione, i famosissimi Ogam che non hanno bisogno di presentazione. Questa mini rassegna che vado a fare a Macerata è un tributo a due grandissimi poeti, uno del passato ma sempre attuale Leopardi che sarà il 4 agosto e questo imminente del 7 luglio che vedrà Montale in scena. Diciamo che questa mia voglia di occuparmi di poesia declamata è da sempre una mia passione che sta diventando sempre di più assillante in questo senso che diciamo dall'ultimo anno a questa parte io ho cominciato a portare seriamente in scena questi autori classici e importanti della letteratura italiana. Vorrei continuare su questa strada e certo con l'aiuto di questi grandi comuni che vogliono accettare la mia offerta. Grazie molto a Macerata e all'assessore e alla cultura che ha voluto che questa mia manifestazione potesse avere il respiro che desidero. Ecco, diciamo che questo è un modo per rendere propedeutica la poesia un po' a tutti perché la poesia ha delle nicchie, dei settori un po' particolari. La musica aiuta a questo? Sì, in questo senso è verissimo perché per quanto riguarda Montale avremo proprio parola accompagnata dalla musica. Ci sarà questa commissione di parole e musica che appunto in questo caso Montale non ha bisogno di musicalità perché la poesia di Montale è propria di musica. Ma l'aiuto del Yogan è necessario perché, come dicevi te, può portare con sé diversi ragazzi, diverso pubblico che conosce già Yogan e che magari per curiosità viene a sentire Montale. Viceversa, chi conosce Montale verrà a sentire Yogan. Allora, lunedì sera alle 21.30 a Macerata al Chiostro del Comune le poesie di Montale lette da Sergio Carlacchiani.